Ho avviato la registrazione, aspetta Mi è mancato poco No, no, aspetta, prima di... Non ti dico nulla, ma prima di partire Lancia, affari, tutto dove lo trovi, ok? Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Siamo appena traccati su questa isola gigante E' il momento di esplorarla Fabio ha messo un piede sul litro E' stato attaccato da qualcosa di cui ancora non mi ha detto Cos'è Per non spoilerarmela Quindi Se ho rivolto e ho detto, vabbè, guardo All'attacco Dove sarebbe sto cinghialo? Oh, l'ho visto Oh, mi attacca E' aggressivo Fabio C'è un cazzo di cinghiale Hai fottuto tutto il cibo, naturalmente Si Sei morto? No, 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 lo sto combattendo, tipo Lo sto combattendo Occhio, che carica Hai visto? Si E' tipo un boss Guarda, fugnato nel culo E mi si è rotto Non essere nel suo raggio Quando inizia a attaccare, eh, mi raccomando Quello è importante Non ne sono accorto Oh, ma mi prende, tipo Davvero? C'è, mi porta a giro quando mi carica Fuori Ucciso Ucciso? Si Squagliamolo Fai Pelle Oh, con la pelle facciamo le cose, Fabio Testa di cinghiale ho trovato Cosa facciamo? Tipo l'armatura, via La roba da mettersi addosso Facciamo un altro coso Ecco a cosa serve il lanciarete Mi sa che quello è imprendibile Un altro cinghialozzo Ok Vengo a darti una mano Vieni Pugnalate il culo Pugnalate il culo Perni, guardami Fa vedere? No, che cosa strafiga Dammi l'altra Vieni Ok, andiamo a giro così Certo che andiamo a giro così Ok Però qualcuno c'è stato È come le antenne Eh sì O raccogli bacche rosse? Oh, ecco la cassa Niente di che Fabio, Fabio C'è un altro animale Cosa? Prova con l'arco, prova con l'arco Che cos'è? Non lo so, è tipo un cerchiato Ok È un lama, un'alpa Oh, l'hai presa Oh, ci carica Il lama Oh, di merda Già, ci sarà il posto per utilizzare la pala In quest'isola, scusa Qua Qua forse Ho trovato dei funghi Dei funghetti Sì Ah, come è una ricetta Oh, finalmente ho trovato il luogo dove zappare Con la pala Sì Te l'ho preso la pala? Sì Funge? Funge, funge E come hai fatto? Ho l'inventare pieno Oh, c'è un pesce C'è un pesciolino Mi sta inseguendo Non ho una Un pesciolino Sì, ma mi inseguo Non ha una faccia tanto amichevole Mi tocca rifare il mini parkour Ho capito E E te adori parkour Niente, Fabio Non mi riesce a salire Strettamente da mangiare, sai No, non lo so Perché io vedo tra le cose da ricercare Questa polvere esplosiva Di colore blu Ho fatto una pentola Di arrezziare Ogni ben di Dio Forse ho capito dove vanno le ricette, sai? Ma jaba dimme na ma jaba Ma jaba dimme na ma jaba E Che semo Ah, mi ha causo il leone Fabio, potrei morire Va Sono morto Urlo al cocco Sono morto Sono Dalla zattera mi vedi Sono a destra della zattera No, ma jaba Com'è che mi piglia Anche se lo salto Ok, io provo a creare St'affare Vazzo d'erba Sapevo Per ottenerlo C'è bisogno di ammazzare Un poison puffer Bisognava ammazzare i pesce palla E' un altro Rischiamo di farlo scoppiare Senza neanche vederlo Eccolo Eccolo Ok Ok Ah, si l'ho visto Vai Vai Fabio Vai Fabio Intanto ti vieni addosso Sì, sì L'ho alpito Preso Ha due frecce addosso Non te ne serve per morire Che ne so Oh, scoppia E' morto Ok, vediamo Che hai provato per raccogliere? Una Testa di pesce palla Due melve esplosive Sì E cosa ti servono? Eh, vedrai una Va bene Vediamo Aspetto Oddio, orrendo 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 Dio Ok, si L'erba è la sembrante bruttissima Sembrante bruttissima Pietre Crea E' obliquo Ok, non lo userò adesso Però sappia solo Che il mirino E' tipo una forchetta Senza i denti centrali Naturali L'isola nel mezzo al mare Allora Se ce la faccia da qui Guardate il suo pelo Ce la faccia da qui Fabio No Che buono Da qui non lo prendo Farò lontano Trovo Vai No Almeno lo puoi raccogliere No No, non lo puoi raccogliere Perfetto C'è l'unica munizione che avevamo? No Dai, ma scherzi Quindi adesso verso quale andiamo? 1.4 o 1.100? Beh Direi 1.4 Se non vuoi Proprio Se non vuoi andare Al prossimo Alla prossima parte della storia Magino No, io direi di andare In un'altra isola adesso Oh Non vedi quel uccello strano? Sì E come si chiappa? No, è un'altra isola È diversa Potrebbe attaccarci L'uccellaccio? No, non penso Se non è sì Mi sembra abbastanza grosso Eh maia lozzo Ti porta al giro Ti porta al giro Scendi Non posso scendere Sì, muoviti Colpiscilo Sì Non posso Non posso fare niente Si è buggato Posso raccogliere la roba Dove mi porta lui Si è buggato Bernie Sì Ma non è partito È partito lontanissimo Si è fatto un male in canive Di nuovo Quell'uccellaccio maledetto Davvero? Sì Mi ha preso un uncoso E sto per morire Prova prenderlo con l'arco Ah raccate sassi tipo da terra Ecco un pesce palla Un pesce palla Davanti a me Ok Dai Fabio Un colpo Non lo vedo Scendi Scendi in acqua Eccolo Morto Fermo Non ti avvicinare Non ti avvicinare No, no è morto Mi ha schivato anche il pesce palla Sei crashato? Sì Ma eri morto? No Ok Un tentativo Ok Dopo questo tentativo L'episodio Finisce No Perché sono Sì Perché sono le 2 e 20 Fabio Ha crashato Devo riuscirci Per Fabio La prova dell'america Eccolo L'ho avvistato Un po' colpirlo In tempo Niente Mi ha sparato Totalmente Cazzo In un altro tempismo Di quello che Che ho pigiato il tasto Allora ragazzi Che dire Ci vorrà molto di più Per avere un altro compagno A bordo della nave Perché è veramente difficile Beccare Un animale Con questa Rete Se poi i compagni Che già ci sono Non crashano Se poi i compagni Che già ci sono Non crashano Quindi io spero Che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi Attivate la campanellina Per sapere Ogni volta che esce Un nuovo video Ci vediamo Al prossimo appuntamento Di Raff Ciao Mi fa salutare anche da Fabio Ciao Iscrivetevi Ciao